Bella a tutti ragazzi, con Orgasmic e sono qui con un nuovo episodio dei Potential Transfer di FIFA 16 Come vedete la grafica dallo scorso episodio è interamente cambiata, proprio tutta nel video e le carte Merito di SPAC il grafico, link l'ho trovato in descrizione dove potete chiedergli qualsiasi cosa, lui è sempre a disposizione di tutti Comunque, partiamo con i giocatori di oggi, però prima di iniziare io direi di lasciare un bel like Ci stanno 400 mi piace per tutta questa nuova grafica perché spacca davvero tantissimo E quindi partiamo con i giocatori di oggi, tre giocatori, tra l'altro forse nessuno legato alla Serie A, almeno penso O forse ce n'è uno in uscita, comunque vabbè, poco importante Andiamo col primo giocatore, cioè un colpo veramente stratosferico che sarebbe, cioè Di Maria Che come sappiamo quest'anno non ha disputato una grandissima stagione nel Manchester United Potrebbe lasciare appunto il club di Manchester per trasferirsi al Paris Saint-Germain Ricordiamo che Di Maria era stato acquistato dal Manchester United per una cifra assurda, altissima Tipo 75 milioni, qualcosa del genere, però adesso non ho controllato quindi potrei anche sbagliarmi Comunque una cifra altissima Lui comunque aveva disputato una stagione con Real Madrid in passato veramente eccezionale Aveva fatto tanti gol, tanti assist, aveva giocato in tanti ruoli nel Real Madrid di Ancelotti E aveva comunque vinto la Champions League e quindi il suo valore ovviamente era schizzato alle stelle Quest'anno, ripeto, non ha giocato una grandissima stagione, un po' per via degli infortuni Un po' per via del fatto che si doveva ambientare magari nel campionato come la Premier League Per cui il PSG potrebbe acquistare questo giocatore per una cifra intorno ai 65-70 milioni di euro Comunque una cifra altissima Comunque la valutazione del giocatore un pelo si è abbassata Però vabbè la cifra è comunque, ripeto, altissima Questa sarebbe la mia prediction della carta Cioè con uno di overall in meno Perché dopo una stagione così, secondo me, ci può anche stare O ci sta Li ho, tra l'altro, aumentato il passaggio perché ha fatto comunque diversi assist quest'anno Ha disputato anche comunque un'ottima Coppa America E quindi secondo me questa carta potrebbe rendere bene Esterno di sinistra l'ho messo perché giocherà probabilmente in un 4-2-3-1 Con lui a sinistra, pastore trequartista, esterno destro Lucas, penso E come attaccante Cavani manca Ibra perché potrebbe lasciare Parigi Ma ne parleremo magari in un altro video Anche se comunque avevamo già parlato di Ibra Andiamo con il secondo giocatore di oggi Come potete vedere da queste immagini Arturo Vidal che ormai è cosa fatta Anzi magari quando uscirà questo video è già ufficiale E il trasferimento di Vidal al Bayern Monaco Per una cifra intorno ai 35 milioni di euro più bonus Dovrebbe comunque arrivare a una cifra intorno ai 40 milioni di euro Un trasferimento lampo perché praticamente in due giorni neanche si è chiusa questa operazione Tra l'altro il Bayern Monaco ha ceduto poco tempo fa a Schweinsteiger Che comunque è un giocatore non più giovanissimo e sempre un po' soggetto a infortuni E si è preso Vidal che o si prenderà Vidal che è comunque uno tra i centrocampisti migliori che ci sono in circolazione Io li ho aumentato di uno di overall anche se questa non è stata la sua migliore stagione Ricordiamo per dire la stagione 2012-2013 Anche la 2013-2014 sono state due stagioni di altissimo livello per Vidal Quest'anno non ha fatto come gli scorsi anni Tra l'altro ha anche giocato da tre quartiste in alcuni casi Ha fatto molti meno gol e molti meno assist rispetto agli anni passati Ma comunque ha disputato un'ottima stagione soprattutto nel finale Magari all'inizio non aveva giocato benissimo per via dei vari infortuni Per esempio al ginocchio Comunque io gli ho aumentato delle statistiche Perché ci sta comunque passa al Bayern Monaco Quindi magari gli aumentano l'overall di qualcosa E quindi secondo me questa è la mia prediction della carta Un colpo duro per la Juve e per i suoi tifosi Perché hanno perso un altro giocatore importante della loro rosa Comunque si parlerà in un prossimo video Di quale potrebbe essere il sostituto di Vidal nella Juventus Andiamo con l'ultimo giocatore di oggi Un altro trasferimento praticamente già ufficiale Cioè quello di Sterling Che dal prossimo anno vestirà la maglia del Manchester City E qui c'è da aprire un discorso Perché questo giocatore è stato pagato 49 milioni di sterline Cioè circa 70 milioni di euro Può essere qualcosa del genere Record per un giocatore inglese Una cifra altissima Se volete sapere il mio parere Io non avrei mai speso tutti questi soldi per Sterling Che sì è un ottimo giovane Un'ottima promessa Tanti margini di miglioramento Però ragazzi stiamo veramente parlando di 70 milioni di euro O giù di lì Comunque io non gli ho aumentato l'overall Perché non ha fatto una stagione esaltantissima Di sicuro quelle passate sono state migliori Per esempio quando c'era Suarez nel Liverpool Però comunque qualche statistica l'ho aumentata Così tipo il passaggio e il tiro Perché ci potrebbe stare Non gli ho cambiato ruolo perché non so poi effettivamente in che ruolo giocherà Ma la cosa che volevo dire è che probabilmente il City ha speso 70 milioni O giù di lì per un panchinaro Perché sostanzialmente potrebbe anche giocare in panchina Sterling Visto che davanti ha gente vabbè che è Aguero attaccante Però ha gente del calibro di David Silva Van Asri e Jesus Navas per citarne tre Che difficilmente faranno la panchina Quindi non so Lascio a voi i commenti Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo trasferimento E chissà come il Liverpool poi Se il Liverpool appunto sostituirà questo giocatore Comunque raga il video finisce qui Spero vi sia piaciuto Come sempre vi invito a lasciare un bel like Ci stanno un botto 400 like per questo video Come sempre fatemi sapere nei commenti qualche news Consigli di mercato Rumor che avete sentito in questi giorni Che probabilmente verranno trattati nel prossimo episodio Vi invito a iscrivervi come sempre al mio canale Pagina Facebook, Twitter, Instagram Tutti i link li trovate come sempre in descrizione Noi ci vediamo al prossimo video Bella raga